La cooperativa di Donne Orchidea è speciale per tanti motivi. Il primo è che nasce in una città molto divisa, Stolaz. Stolaz è un comune della Federazione di Bosnia e Herzegovina. In seguito agli accordi di Dayton, parte del territorio comunale, è passato sotto il controllo della Repubblica Serba di Bosnia e Herzegovina. Con la fine del conflitto, infatti, la Bosnia e Herzegovina è stata sostanzialmente divisa in due unità. La Federazione di Bosnia e Herzegovina da una parte e la Repubblica Serba di Bosnia e Herzegovina dall'altra. Molte delle quasi cento donne che vi lavorano durante la guerra sono state ferite e hanno subito violenze inenarrabili che hanno lasciato segni indelebili nel corpo e soprattutto nell'anima. Lavoro qui da marzo scorso, sono impiegata a tempo pieno come invalida di guerra. Mi è stato detto più di una volta che la guerra ha diviso questo popolo. Prima eravate molto più uniti. Con la guerra si sono create delle divisioni tra le varie religioni, in particolar modo in città come questa che sono state molto colpite. Voi all'interno della vostra cooperativa sentite questa divisione? No, qui da noi queste divisioni non ci sono. Noi pensiamo che tutti gli uomini siano esseri umani e basta. L'importante è che abbiano un'anima, che abbiano un cuore. Non ci interessano le religioni di appartenenza, non importa se uno è serbo croato o musulmano. Le persone che sono qui sono diverse tra loro, hanno storie diverse e quindi hanno vissuto la guerra in modo diverso. Per quanto mi riguarda, per come l'ho vissuta io, posso dirti che per me è stata molto dura. Sono stata ferita, ho vissuto direttamente sulla mia pelle gli orrori che ci sono stati, per cui non è sempre facile per me. Però dobbiamo guardare avanti, dobbiamo riuscire a convivere e guardare insieme al futuro, perché l'uomo da solo non può stare. Sei sempre rimasta qui o durante la guerra sei andata via? Siamo stati cacciati via da Stolz, siamo andati a Mostar e siamo tornati qui quando la guerra è finita. A Mostar sono stata molto male, quando mi hanno ferita sono stata ricoverata, sono passata da un ospedale all'altro, sono invalida al 90%, però vado avanti, lotto e sono contenta per come sto oggi, anche se sono invalida. Tu hai figli e nipoti? Ho due figlie sposate, un figlio e tre nipoti. E come vedi il loro futuro? Hai comunque paura ancora che possa accadere qualcosa di brutto ai tuoi figli che vivono qua? Io sono una persona positiva, guardo sempre al futuro come a una cosa bella e questo atteggiamento è la mia forza. Per cui anche se i miei ragazzi stanno ancora studiando o hanno finito l'università ma sono senza lavoro, sono sicura che prima o poi qualcosa di buono arriverà. Intanto sono vivi. E va già bene così. Che cosa ti ha dato la forza di superare i tuoi giorni peggiori? I miei figli mi hanno dato la forza, proprio loro, perché per tutto il tempo io ho lottato per me, ma soprattutto per loro, perché non avessero dei momenti brutti come i miei, perché non succedessero loro le stesse cose. Per cui è grazie a loro se sono ancora qui. Puoi dirmi se hai percepito un atteggiamento, una reazione diversa alla guerra tra donne e uomini? Purtroppo sì, io penso di sì. Io sono molto legata all'orchidea, so quello che pensano le donne qui, so come la pensiamo tutte noi in proposito, ma proprio per questo non posso darti una risposta. Non ho una risposta netta per questa domanda. E orchidea che cos'è per te? Per me orchidea è una salvezza. Vengo qui, lavoro, mi distraggo e anche un supporto psicologico. C'è sempre gente, c'è sempre qualcuno che ci dà una mano. È il mio lavoro, è la salvezza. Kvala. Kvala, vamo. Grazie. Grazie. Grazie.